Anni di attese e lavori interrotti di una struttura imponente che avrebbe dovuto costituire un centro importante e di riferimento per il territorio ma mai completata e che oggi resta lì in piedi e in compiuta tra l'indifferenza generale. A Ceglie del Campo, quartiere della periferia sud di Bari, sarebbe dovuta infatti sorgere la casa di riposo al Domoro. Il complesso si sarebbe dovuto destinare all'assistenza agli anziani autosufficienti e non e la sua realizzazione fu approvata con atto deliberativo addirittura nel 1970 e invece col passare del tempo ha dovuto subire le ingiulie del tempo e dei vandali. 5.000 metri quadri di nulla insomma. Negli anni a venire dei tentativi per farlo ripartire non sono mancati. L'anno della svolta in negativo fu il 1996. Dopo un primo esborso per l'edificazione furono messi dei fondi a disposizione per il suo completamento ma stando alle fonti dell'epoca l'allora usl oggi asl di carbonara preferì indirizzarli verso altre necessità e scopi. Ci provò un decennio dopo anche l'amministrazione comunale di Emiliano nella speranza di poterlo utilizzare anche per iniziative sociali. Niente da fare. Di chi causa responsabilità? La Corte dei Conti ha precisato che è quasi impossibile aprire un'inchiesta sui responsabili del mancato completamento dei lavori e sui danni alle finanze pubbliche che questo ha provocato. È praticamente impossibile individuare delle responsabilità personali, spiegò l'allora procuratore regionale Francesco Lorusso al quotidiano di Bari nel 2018, dato che la scelta di dirottare quei 5 miliardi di lire su altre opere fu formalmente corretta anche se moralmente sbagliata. Su quei fondi, ha precisato ancora Lorusso, non esisteva alcun vincolo anche se ne era stato più volte dichiarato lo stanziamento per i lavori di completamento del ricovero per anziani al Domoro, a rimetterci i cittadini, ma la speranza è che ancora qualcuno possa riprendere a cuore seriamente una risoluzione positiva della questione.